...posizionato sul palco, loro sono i Feuerbach, li presentiamo per chi non li conoscesse, sono un gruppo emergente, diciamo così, hanno iniziato questa giornata conoscitiva proprio per farci apprezzare la... Guido De Ambrosis, facciamo un applauso, chitarra e voce, Andrea Marchetti, chitarra elettrica, Michele Lombardi alla batteria e Federico Lombardi al basso. E adesso io andrei dritti dritti, subito dentro. Guido De Ambrosis 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 Sono un folle, ascolta quel che canto e sostituisco la realtà all'inganno E sono irritante, a volte un po' irriverente e questo è quello che pensa di me la gente Ma io salto e salto anche le parole di quella gente che non vede dentro Se, dentro se, si può vivere senza nemmeno un limite Solo se si rispetta chi, chi respira accanto a te, accanto a te Sono un folle e quando mai mi stanco di far sentire la voce del mio canto È spesso arpedante e a volte un po' insistente con gli ignavi e a chi non importa niente Vedo i suoni, gli odori e le emozioni dentro ogni mondo In fondo tutti sanno che, o sanno che Si può vivere senza nemmeno un limite Solo se si rispetta chi, chi respira accanto a te, accanto a te Si può vivere senza nemmeno un limite Solo se si rispetta chi Si può vivere senza nemmeno un limite Solo se si rispetta chi, chi respira accanto a te, accanto a te Grazie Guido Deantrosis, voce e chitarra acustica Andrea Orpetti, chitarra elettrica E cari Lombardi, alla batteria, Federico Lombardi al basso Non lo sono, e poi è il batterio Qua al centro cominciamo Qua al centro cominciamo